Aspetta, ok, pronto. Bisogna andare lontano, andiamo a fare una passeggiata sul sentiero. Bene, questo è il sentiero di Wimbledon. Grazie per essere veloci al gioco di funghi. Bene, andiamo a vedere se c'è qualcosa anche qua, dai. Eh, ma non lo so dove sono. Guarda, non c'è qua, 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 qua. Ora ve li prendete, vai, vai. Aspetta, aspetta che facciamo vedere che qua intanto c'è la gente che corre, che corricchia e dov'è che corre? Corre di fianco. Nel posto dei funghi. Cosa c'è lì? Fa un po' vedere. Ah, questa è una ciuppadellina e una ciuppadellotta. Ma guarda te, che roba, eh? Sono proprio qua, ma bisogna camminare un sacco al parco di Wimbledon, eh? Eh, lo so. Adesso le prendiamo. Ma com'è incastrata questa? Prendo io. Che fatica, che si fa? Vai, tira fuori. Uno, ok. Fa che quello lì si fa, va? Se no la lascia pure lì quello, dai, tira fuori quell'altra. Forse quella lì ho qua. Beh, insomma, amici. E? Ce la fai o vuoi una mano? Faccio io. Sì. Quindi andiamo qua. Una e due. Bene, prendi in mano queste due. Lo provate io. Una e due. Fatti vedere come sei bello. Saluto a tutti gli amici. Ciao, ciao. Grazie per essere venuti al gioco di funghi. Ciao.